come va e bentornati sul mio canale come sempre prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità molto molto bene questo è uno dei video che mi piace di più che faccio più volentieri li faccio di sicuro fissi sempre una volta al mese più altri video così ogni tanto durante il mese per elencarvi i pagamenti da parte dell'inps e da parte dello stato accrediti bonus e quant'altro così oggi vediamo quando arriva la pensione la naspa il trattamento integrativo assegno unico rdc sì perché anche di rdc dobbiamo parlarne perché di rdc c'è ancora delle cose che devo dirvi da adesso fino almeno fino a luglio e allora partiamo con la più semplice che la naspi i pagamenti della naspi partiranno presumibilmente con la data calda del 10 di questo mese e andranno avanti fino alla fine del mese come sempre come vi dico domeniche escluse poi vediamo l'assegno unico e universale allora il pagamento è in arrivo dalla terza settimana di questo mese e ci sono da tenere a mente due date diverse due date di accredito che ovviamente sono legate sia alla domanda che ad eventuali variazioni del nucleo familiare quindi prendete carta e penna calendario anzi prendete il calendario direttamente perché con tutto il video che vi devo raccontare gli accrediti è meglio che ve lo tenete sotto mano così facciamo prima comunque per l'assegno unico abbiamo queste date qua 17 18 e 19 di aprile poi sempre stando in merito all'assegno unico in generale comunque l'insa detto che vuole mettersi in regola con i pagamenti quindi quindi dicono che ci sono queste due ulteriori date da considerare primo nei giorni che vanno dal 15 al 20 di ogni mese ovviamente domenica esclusa è questa è una media quindi dal 15 al 20 per tutti quelli che non hanno subito delle variazioni nel calcolo degli importi rispetto alle mensilità precedenti quindi dal 15 al 20 e poi abbiamo dal 20 al 30 o 31 del mese per quelli che invece hanno subito variazioni negli importi percepiti dovuti a variazioni per esempio nel valore dell'isee o nella composizione del nucleo familiare poi dentro queste date dovrebbero dovrebbero essere compresi anche gli arretrati dei mesi precedenti considerate che a febbraio era l'ultimo periodo valido per avere gli arretrati di assegno unico poi il pagamento della prima rata della prestazione normalmente viene fatto nell'ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda e poi sempre per assegno unico ricordatevi che anche se è vero che dal 2023 il rinnovo di assegno unico è automatico è vero fino a un certo punto resta comunque obbligatorio per la famiglia rinnovare l'isee anche eventualmente per prendere tutti gli aumenti del caso o assegno di inclusione a di vediamo un po le date calde di pagamento e quindi avremo queste due date quella del 15 e quella del 26 dice perché il 26 questo mese il 27 cade di sabato e quindi la ricarica vi sarà anticipata di un giorno rispetto al solito poi i prossimi pagamenti delle rate successive alla prima quindi stiamo parlando dei vecchi percettori saranno fatte in queste date il 28 di maggio il 27 di giugno e il 27 di luglio poi da agosto in avanti ci penseremo dopo per adesso queste sono le tre date quasi sicure e comunque lo sapete e io dico così per pure informazione lo sapete ricordatevi che la presentazione della domanda all'inps è solo il primo passaggio per poter ricevere il sussidio perché poi oltre a fare domanda bisogna anche iscriversi al sito internet che si chiama sisle per il patto di attivazione digitale ma di questo penso che ne abbiamo già parlato tantissimo quindi io andrei avanti sul lascerei un po perdere e continuerei il discorso dei pagamenti supporto formazione e lavoro sfl l'indennità pagata per sfl abbiamo già visto che può arrivare arrivare ad avere parecchi ritardi e questo lo sappiamo perché comunque nei mesi scorsi le persone hanno avuto appunto non hanno ricevuto pagamenti e me l'hanno scritto in tantissimi sotto i video quindi lo sappiamo di fisso ed per certo però per quanto riguarda il pagamento del contributo da 350 euro l'inps chiarisce che saranno pagati in presenza di una domanda con esito accolta salvo ulteriori controlli e anche con un patto di servizio sottoscritto ovviamente come lo dico sempre in case e solo in caso di effettiva partecipazione alle attività richieste quindi le date calde sono per le domande inviate all'inps entro il 15 del mese e che soddisfano tutti i requisiti il pagamento di norma viene fatto dal 27 dello stesso mese e poi per le domande inviate nel corso del mese ma che maturano le condizioni però dopo il 15 del mese ma entro lo stesso mese quindi diciamo dal 15 in avanti il pagamento di norma viene fatto dal 15 del mese successivo sempre che soddisfano le condizioni e bla 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 cambiamo e parliamo di rdc reddito di cittadinanza io ve l'avevo detto e adesso vi spiego tutto parliamo ancora un momento di rdc che anche se è vero che è terminato al 31 di dicembre nel 2023 quindi quattro mesi fa c'è ancora una cosa che vi devo dire ricordatevi ricordatevi che la carta rdc non è assolutamente da buttare mi raccomando perché i soldi residui che eventualmente fossero ancora avanzati all'interno della carta e che non sono stati spesi entro la fine dell'anno scorso potranno essere spesi nei mesi successivi dicono senza nessun tipo di problema nel senso non come prima che c'erano le scadenze 130 giorni no entro quando si vuole sempre ovviamente però ascoltate sempre ovviamente rispettando alla scadenza indicata sulla carta rdc che adesso vi spiego cos'è questa scadenza diciamo che a prescindere dalla scadenza indicata sulla carta sapete che sulla carta davanti c'è il codice lungo ecco sotto c'è una scadenza quindi a prescindere da quella scadenza lì e tra qualche mese questa carta sarà comunque disattivata e si sta già parlando della fine di giugno quindi dal primo di luglio tra qualche mese questa carta pare che sarà disattivata definitivamente ed eventuali soldi che sono caricati ancora all'interno della carta verranno ritirati quindi mi raccomando come sempre visto che se li andati abbiamo sudato e faticato per farci caricare la carta mi raccomando non fatevele ritirare perché poi quando tornano indietro non sappiamo più che fine fanno è quindi mi raccomando usiamo ancora i soldi che ci sono in quella carta poi non vi preoccupate perché io comunque ve lo ripeterò ancora perché non voglio che vadano persi bonus renzi su naspi i pagamenti del bonus integrativo o bonus renzi per gli affezionados come me ma non perché mi siano simpatico lui perché sono abituato a chiamarlo così dovrebbero arrivare già dalla prima metà di questo mese quindi a partire dal giorno 11 e quindi praticamente dal giorno dopo l'accredito della naspi poi sempre per quanto riguarda il bonus renzi ecco che me lo state chiedendo ricordatevi anche un'altra cosa su questo trattamento integrativo quando non si riceve il bonus durante l'anno durante l'anno sarà possibile recuperarlo nella dichiarazione dei redditi quindi stiamo parlando del 730 o del modello unico redditi che si dovrà poi ovviamente fare tra qualche mese o sì ovvio ovvio sempre ovviamente che ne avrete diritto per poterlo ricevere comunque voi se fate il 730 o l'unico da un capo da un consulente voi mettetevi un appunto e dite ricordati di recuperare il bonus renzi e se c'è capienza ve lo recuperano cassa integrazione chi sta aspettando i pagamenti di cassa integrazione in deroga fondo per l'artigianato o qualunque altro tipo di cassa integrazione che però viene pagata direttamente dall'inps deve controllare le date di accredito sul sito internet dell'inps all'interno del proprio cassetto previdenziale per tutti gli altri dovete chiedere al vostro dattore di lavoro pensioni in se ok le pensioni in se ne avevamo già parlato la scorsa settimana e comunque quando escerà questo video le pensioni saranno già in pagamento e sono partite dal giorno 2 carta acquisti per quanto riguarda il mese di aprile allora questo mese non ci sarà il pagamento della carta acquisti perché non fa parte di uno dei mesi di pagamento che vi ricordo sempre sono i mesi dispari attenzione per tutti quelli che hanno richiesto la carta l'anno scorso in questo periodo e non ricevono il pagamento ricordatevi che la durata della carta acquisti e di un anno e che inizia ovviamente dal primo a credito di 80 euro e il rinnovo può essere fatto ogni anno sempre che come dico rimangono i requisiti per richiederlo per ultimo vi parlo di questo piccolo argomento in teoria dal 2023 in teoria doveva perdere anche il nuovo reddito alimentare ve lo ricordate era destinato alle famiglie che si trovavano o si trovano in gravi condizioni economiche con un isee inferiore a 15 mila euro e serviva serviva per combattere lo spreco del cibo e aiutare coloro che si trovavano in situazioni di povertà assoluta lo scopo di questo reddito alimentare lo scopo principale era quello di evitare di buttare circa dicono e dicono 230 mila tonnellate di cibo invenduto invenduto dalla grande distribuzione e quindi aiutare in parte gli italiani poi di questo reddito praticamente non se n'è più parlato vuoi forse anche dovuto al fatto che aveva ricevuto tantissime lamentele perché ci danno la roba scaduta la roba marcia su questi erano i commenti che ricevevo io sotto i video è perché ci danno la roba marcia la roba scaduta quindi aveva ricevuto tantissime lamentele un bel momento cioè nessuno ne ha più parlato di questo reddito alimentare quindi non so forse c'è forse non c'è forse l'hanno messo non ha detto niente chi lo sa possa di fatto che forse dalla vergogna l'ha ritirato bo chi lo sa se avete avuto notizie fatemelo sapere qui sotto nei commenti così capisco se o mi sono perso io un pezzo oppure non ho trovato l'informazione che che mi serviva per quanto riguarda questo reddito alimentare bene con il reddito alimentare chiudiamo il discorso degli accrediti da parte dell'inps ricordatevi il giovedì sera alle 21 e 30 sul mio canale di youtube ci sono le dirette live quindi ci vediamo in diretta faccia a faccia parliamo del più e del meno cerchiamo di risolvere problemi chi non ha problemi può benissimo semplicemente venire a salutarmi in diretta oppure salutare gli altri della comunità della comunità della community un po più carino e quindi giovedì sera 21 e 30 sul mio canale con questo è tutto io vi ringrazio per avermi guardato ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di youtube di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento a presto ciao 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 ciao